Giulia Fiocco, 68 anni, ex insegnante e uno dei due candidati sindaco a Canale d'Agordo, si presenta con la lista Progetto per la Comunità e il Territorio. Sono stata consigliera di minoranza praticamente dal 1985 all'89. Io sono consapevole di una certa età, ho detto beh, questo impegno me l'assumo, voglio fare qualcosa per il mio paese, sono decisa, mi sento anche abbastanza preparata. La lista è composta da persone di varie età che si sono avvicinate spontaneamente al progetto. Il più giovane ha 23 anni, poi in mezzo ci sono varie età, sicuramente tutti sono giovani, ben motivati secondo me, sicuramente ben motivati, gente che ha dimostrato di avere passione, gente che ha accettato volentieri di stare nella lista, anche questo è un ottimo segnale. Due hanno chiesto addirittura di farne parte e per me, io ho molta fiducia in questo gruppo. Il tema del rilancio del territorio, secondo Fiocco, deve passare anche per la cura dello stesso. Il territorio oggi è un po' abbandonato, non è colpa di nessuno, però chiaramente là dove le regole esistono, le regole diciamo si occupano del territorio in maniera diretta, con ottime risultati e ad ogni modo come candidata sindaco, io dico ora come ora del territorio dobbiamo occuparci, noi per intanto. La candidata viene da un'esperienza nel comitato cittadini per il territorio, che si era battuto contro la fusione con Falcade e aveva promosso un ricorso contro una nuova centralina sul torrente di Era. Essere nel comitato ti rende particolarmente attento e anche sensibile a quello che accade intorno, ti poni tanti problemi, capisci che c'è questa dimensione pubblica del vivere che è importante e anche questo ha condizionato la mia scelta.